Tutti possono affacciare una nota positiva di questo campionato di una parte campionata della Fiorentina e adesso vogliamo ritornare a vincere e ritornare a soltanto venire in Milano distante. L'alta classifica è abbastanza corta, un incidente di percorso come quella che ha dato sotto la Lazio può starci pronti a ripartire comunque più determinati di prima? Sì, soprattutto la squadra ha sempre dato dimostrazioni che dopo le sconfitte è sempre riuscita a rialzare la testa e a ripartire al massimo. Non è male che con un risultato positivo a Milano ritorneremo in corsa lì davanti anche se comunque la classifica è corta e siamo appena a giro di gol. C'è bisogno di qualche rinforza in questo gennaio? Penso sia una decisione della società insieme all'allenatore. Quello che ho sempre detto a tutti e a tanti è che questa squadra è ben amalgamata, c'è un grande gruppo e non è semplice inserire i giocatori in un grande gruppo ben coeso e ben unito come siamo noi. Sicuramente se verrà fatto, verrà fatto al di là delle qualità tecniche del giocatore di colare una mano in campo ma anche di giocatori importanti fuori dal campo. Grazie.